A pochi mesi dalla piovosa terza edizione di Abbraciami torna la più tradizionale Fiera del Fuoco, l'edizione numero 7 per il Centro Mites di Atessa. Questa manifestazione in programma nel prossimo fine settimana, come sempre con tante iniziative, come ci spiega Antonio Minna. Sì Antonio, siamo giunti al consueto appuntamento della Fiera del Fuoco, Fiera del Fuoco 2023. Come anticipato siamo giunti alla settima edizione quest'anno, un anno in cui sicuramente ci sarà una grande ripresa del mercato delle biomasse, soprattutto quella del pellet. Già stiamo vedendo in questi giorni che i nostri clienti sono intenzionati all'acquisto dei nuovi prodotti e termoprodotti a pellet, con l'abbassamento dei prezzi proprio della materia pellet. E non vediamo l'ora di cominciare il settimo appuntamento della Fiera del Fuoco. Dopo il successo dello scorso anno con il convegno d'apertura sulle biomasse e sull'energia in generale, anche quest'anno abbiamo voluto riproporre come apertura della nostra manifestazione un altro convegno. Quest'anno il tema sarà l'impresa e il territorio. E saranno coinvolti come relatori sempre il nostro sindaco Giulio Borrelli, l'assessore regionale Nicola Campitelli, il presidente di Confartigianato Chieti L'Aquila Gian Giulli ed infine Amerigo Pellegrini, fondatore e amministratore di Pail Serramenti, che è un imprenditore importante della nostra zona. Volevamo quindi porre l'attenzione sull'investimento che il piccolo imprenditore fa nel nostro territorio, quindi parlare un attimo di chi sceglie di investire sul nostro territorio e cosa si aspetta magari dal territorio e dalla politica che lo amministra. Quindi volevamo porre l'attenzione su questo, sia grazie ai nostri relatori più tecnici sull'argomento e sia anche con la testimonianza di un imprenditore locale che investe da più di 60 anni nel nostro territorio. Ovviamente come ogni anno non mancheranno i prodotti che sono il protagonista della nostra manifestazione, quindi dalle stufe a legna, a biomasse in generale, alle caldaie, ai camini e agli elementi di cottura, da cottura quindi come forni, barbecue e chi più ne ha più ne metta insomma. Non solo esposizione, come sempre tanto divertimento e soprattutto anche dimostrazioni pratiche. Quindi sia elementi di riscaldamento accesi che i nostri clienti potranno toccare con mano e provare e sia anche prodotti da cottura. Quindi vedranno all'opera il nostro staff con gli amici delle Achili e il gruppo delle 500 che ci darà una grossa mano per quanto riguarda la cottura. Quindi dall'utilizzo di barbecue, di forno, di vari elementi che noi andiamo a vendere tutti i giorni rivolti un attimo all'outdoor, al mondo dell'outdoor in generale, oltre che appunto al riscaldamento, che è un po' il tema principale della Fiera del Fuoco. E dopo aver in maniera esaustiva parlato del primo giorno di programma alla Fiera del Fuoco, con Angelica Menna andiamo invece ad illustrare quello che accadrà nella seconda giornata, domenica 3 settembre. Allora, sì Antonio, ma ovviamente prima di illustrarvi tutto ciò che accadrà nella serata di domenica, ci tenevo a dirvi che tutta la Fiera del Fuoco, l'intero evento sarà sviluppato al coperto. Infatti per questa edizione abbiamo allestito una tensostruttura esterna così da sviluppare l'intera manifestazione al coperto, così da svilupparsi insomma con qualsiasi situazione meteorologica. Le giornate di sabato e domenica saranno dedicate esclusivamente all'esposizione delle stufe e quindi di tutti i nostri prodotti di riscaldamento e degli altri stand locali, insomma, concluderemo questa settima edizione della Fiera del Fuoco con una cena spettacolo a cura delle acliliatessa, una cena spettacolo con duccio appunto. Vi ricordiamo che per la serata ovviamente i tavoli sono su prenotazione, è possibile prenotare il tavolo ai numeri 0872 86 54 40 o al numero whatsapp 339 88 04 386. Ovviamente tutto questo si svolgerà nella nostra sede in via Montemarcone 155 di Atessa, quindi non possiamo far altro che aspettarvi per questa settima edizione della Fiera del Fuoco, l'evento diciamo clou della nostra azienda con cui apriamo questa stagione autunno-inverno 2023-2024. Vi aspettiamo ad Atessa in via Montemarcone 155, uscita Val di Sangro procedendo verso Atessa. Seguiteci sui nostri canali social Facebook e Instagram.